Noi ci troviamo a piazza Domenici che è una piazzetta dove giocano tanti bambini la sera si riuniscono persone anziane anche coppiette per stare insieme in questo luogo bellissimo perché è fronte mare, waterfront alla nostra bellissima litoranea e noi abbiamo questo scempio che sono le scale che dovrebbero far transitare chi va in spiaggia va bene senza passare direttamente dalla strada dovrebbero passare qui noi ora faremo questo percorso per capire in realtà cosa c'è in questo spazio con la possibilità perché logicamente il video non lo fa sentire ma la puzza è infernale ma è veramente infernale e questo è lo spazio che qua dentro c'è e regna io ho anche paura che possa avere qualche incontro di qualche topo guardate quello che c'è che cosa regna qui si sentono rumori strani ma cosa regna in questo in questo luogo è questa praticamente una galleria per evitare che si possa incappare a qualche incidente stradale al trasferimento da una stata un'altra ecco qui e poi usciamo sulla nostra spiaggia che è bellissima ma con questa problematica grazie a tutti grazie a tutti